Io non sono un demone umano, sono Erin Atsuno! Per la pace, avete detto, e questo vuol dire che tutti dovranno sacrificare le loro vite? E perché? Per il paese, per il re, per cose tanto lontane da voi, è per questo che dovrebbero sacrificarsi! Se non c'è un sacrificio non si può avere la pace! Perché dovete pensare, sì, posso anche morire, questa non è pace! Avete sopportato di tutto e adesso dovreste morire! Se anche così si potesse ottenere qualcosa, sareste felici, no? Anche non lo sareste, ne avreste tutte le ragioni, tutto questo è assurdo, assurdo, assurdo! Perché non volete capire una cosa tanto semplice e banale?